Questo programma è offerto da... Sei maiala e vuoi sfogare la tua sindrome di porna? Allora prenotati un'hotel a Verona per il 28 e 29 maggio Perché tutto lo Zodi 105 sarà al Veipitali per due giorni Completamente fatti di siga elettronica Allo stand della PAF Non mancare Allora, oggi sono stramegacarico Perché? Beh ovvio, ho pippato la cicoria della mia nonna Che mi manda in Spagna tutte le settimane insieme al sugo calabrese Detto questo, cosa facciamo? Bene, allora potete scegliere tra Presigla Standard Dove presento tutti e vi presento come degli eroi Presigla Professional Dove dico una marea di cazzate sul vostro lavoro Presigla O'Ne Dove parlo solo ed esclusivamente del film di Mazzoli E facciamo dibattito sulla scena 3 Quando cade l'elicottero dal grattacielo E Marco si trasforma in Superman con le gambe corte E salva New York Oppure potete scegliere la Presigla Store Che parla di voi E ogni giorno faticate per schiacciare dei tasti sul computer Mentre c'è gente che si fa veramente il culo Ma che però deve far passare voi come degli eroi Poi la Presigla Ammazzolata Dove parlo dei politici e dell'Italia che è alla deriva Ma Miami è più bella Oppure la Presigla Musicale Beh, questa è un classico Parlo di voi tramite la musica Funziona molto Oppure quella più richiesta La Presigla del treno Sapete una cosa? Visto che non sapete decidere manco una Presigla Me ne vado in spiaggia con la mia massaggiatrice Franco E ce la vediamo Teto Teto aspetta Teto Stronzi Buona puntata Grazie Ma perché? Ma perché? Aia Lo sento crescere in me Ce l'ha il senso di sto treno E con un brimido che Cos'è sta l'amore del treno? Non puoi comprendere E fa parte di te Welcome to the zoo Zoo 105 Zoo 105 Zoo 105 Zoo 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 5 Zoo 105 in più Lo ZODI 105, il programma più ascoltato in Italia Buongiorno!